Hai visto ultimamente le pagine di Instagram? Non so chi si vanta di più. Mi metti like a una foto di un panino di sei anni fa, tutto bene? Come quando ti piace qualcuno e dici non voglio dargli il like e poi gli metti like. Devi rispettare gli ex. Nel possibile, non dico di essere la sua bestie, ma se una persona ti parla bene della sua ex puoi lasciarglielo fare. Però non dico che possono sentirsi tutto il tempo. Sì, giusto ogni tanto, senza esagerare. Il bagno schiume e shampoo deve averli. Cresci, cresci. Voglio dire, dai. Sì, è più importante usare diversi prodotti. Sì, sì, fatti coccolare un po'. Sì, esatto. Prenditi il tuo tempo. Quando qualcuno dice ironicamente slay, è normale o una red flag? Io penso che lo dico spesso. Sì, potrei dirlo spesso anch'io, rido sempre a crepa pelle. A me è naturale dirla. È divertente. Sì, qui in slay. Sì, sì, sì. I miei nipoti e la mia famiglia dicono che non è così cool, però io lo dico sempre. Davvero? Sì vecchia. Dai, io sono una millennial, non posso cambiare ciò che sono. Sì, è una di quelle parole che presto andrà a scomparire. Io la userò per sempre, mi dispiace. Sì. Quando qualcuno ti regala un profumo che ha già regalato alla sua ex, è normale o red flag? Questo è meglio che non accadde. No, no, non va bene, già. Perché è come se lui volesse tenerla ancora nella memoria. Totalmente. Sì, oddio. Se lo scoprissi io direi, ma se è serio? Sì, sì, sì. No, no, no. Non voglio neanche pensarci. No, 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 orribile. No, 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 no. Sembra un po' una cosa alla you. Sì, decisamente inquietante, sì, sì, sì. Sì, concordo. Sì. Potrebbe succedere. Non lo sai, tu mi regali questi o ti uccido. Non va per niente bene, dai. Non credo che succeda, è sicuro io non l'ho fatto. Ma non credo che qualcuno l'abbia... Ok, ok. Sì. Vorrei davvero dire red flag, ma ne sono colpevole, scusa. Se guardi... No. Guarda, non l'hai mai notato? Ma tu hai... Non ho belle dita. Nelle pelle unghie, davvero. Sì, ma comunque le mangio di continuo. Sì? Sì. Sei stato bravo a non farlo notare e poi hai svelato il segreto? Se ti serve un'unghia? Lo faccio anche io comunque. Sì. Quindi per voi è una green check. Sì, sì, molte persone ci diranno ora. Sì, perché no? Però a noi piace. Sì. Quando qualcuno rimane in contatto con il proprio ex, è normale o red flag? Penso che questa... Beh, dipende. Sì, ma generalmente dico proprio questa, credo. Io sarò pazza, ma dico nel mezzo. Se hanno una bella... Non dico che sono bestie, ma penso che se qualcuno si trova bene a parlare con l'ex, lo può fare. Ma non voglio dire che accetto che si sentano ogni giorno. Contattarsi regolarmente, dice. Sì, non scrivetevi sempre, però se volete prendervi un caffè, è ok, che problema c'è? Qual è la tempistica di tenersi in contatto? Di nuovo, non uccidete me. Dimmi, mi chiedi. Sì, 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 voglio solo saperlo, per favore. Dico solo, non siamo amici. In una certa misura, insomma, penso che comunque non controllerei che cosa si sono detti, però chiederei che cosa è successo, come è andato. Penso che dovresti rispettare. Sì, dipende dalla situazione poi. Sì, esatto, poi è una situazione diversa, davvero. Quando qualcuno preferisce Anthony a Benedict, è normale o red flag? Oddio, i fratelli, è molto tosta. Che dico? Se dovessi scegliere, credo che Benedict sia molto più gentile con le donne, soprattutto con Pen, quindi sceglierei lui. Sì, 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 non so se però ci fossi io, ci diresti Benedict? Poi è Benedict Anthony. Sì, ok. Gregorio è troppo piccolo. Sì. Per me? Sì. Troppo, troppo giovane. Si posso fare da madre? Fuori legge. Sì, è decisamente una red flag. Sì, sì. Quando qualcuno mette come sfondo del telefono la squadra di calcio, è normale o red flag? Io dico assolutamente. Ma dai. Io penso che sia un po' troppo. È troppo? Come chi mette i loghi. Oddio, ora vorrei sapere cosa le fanno andando come sfondo, perché sarebbe interessante. Io non posso dire il mio. Il mio è noioso, è solo un semplice sfondo predisposto, verde. Molto noioso. Così noioso che dico red flag. Sì, sì, molto. No. Sì, 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 sì. Noi penso che sia ok. Sì. Sì, tu sei mentalmente aperta. Io dico no. Red flag. No. Sì. Ho un amico che forse l'ha messa una volta e io ero tipo, no. Ah, penso che sia, penso sia troppo. Non so. Forse dipende da che tipo di foto sia. Se tipo è una foto di te allo stadio è figa. O sei tipo, se tipo fai una foto col tuo giocatore preferito dietro. E' una foto divertente che riguarda te e non la squadra in generale, ok? Sì. Però io penso che le persone più strane sono su Instagram. Ci siete andati ultimamente? Ti mettono like alle foto di sei anni fa. Tutto bene? Cos'è successo? Ti sei ricordato adesso che io esisto in questo mondo? Ma dai. Che cosa succede? Dai, è così strano. No, no, non lo so. Quando qualcuno usa i tre in uno per corpo e capelli è normale o red flag? No. Corpo e capelli? Cresci. Necessi di crescere allora. Sì, dai. Vanno usati prodotti separati? Dai, non siamo bambini. Sì. Possiamo elencarvi alcuni prodotti proprio qui? Influencer. Devo essere fatto gli adulti. Sì. L'unica cosa è che dati i tempi che corrono, se stai cercando di risparmiare dei soldi, forse può essere una situazione accettabile, ma sarebbe da bambini, sì. Se devo stare in hotel, e a volte stiamo spesso negli hotel per lavoro, e spesso troviamo shampoo e sapone, il tre in uno. Idem. Dico sempre no, 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 no. Non riesco. Penso che puoi trovare a poco prezzo entrambi i prodotti. Sì, basta solo girare qualche negozio. Sì, sì, è come una coccola. È un regalo per te stessa, poi. Sì, prenditi il tuo tempo. Sei un piccolo principe, te lo meriti. Quando qualcuno dice che Nigel Bearbrook sia abbastanza sexy, è normale o red flag? Per il personaggio, red flag. Sì. Per Jamie James, rim flag. Sì, dai, Jamie è un bravo ragazzo. Sì, lui è davvero dolce, sì. Però per Bearbrook? Bearbrook è inquietante. Inquietante. No, no, no. Quando qualcuno dice che non ama il period drama, è normale o red flag? A te viene detto molto spesso. Lo dicevo spesso anch'io, però poi Bridgerton mi ha aperto gli occhi. Sì, è come i cristiani che si aprono alla religione. Sì, è beige. Esistono i beige flag? Perché penso sia nel mezzo. Così diventa beige o simile? Guarda, sembra beige. Sì, non credo sia beige, però cambia colore. Sì, siamo d'accordo. Sì, beige flag. Sì, io non amo i period drama, ma Bridgerton è fantastica. Vai via! Sì, lo finisco di vedere, giuro. Sì, ci contiamo. Sì, si dice fuori! Intendevo dire, prima di Bridgerton, io non li comprendevo, ma poi mi sono affezionato a voi. Ma perché il nostro adattamento è molto più moderno, portiamo creatività. Dopotutto nessuno ha un ombretto brillantinato nell'era Legendship, sono... Slay. Slay! Slay? Sì. Concludiamo così. Cioè, tu ricordavi ancora la prima domanda, davvero? Io era la memoria? Io sto attenta. È stato un piacere, ragazzi, grazie mille. Grazie mille, davvero grazie. Grazie mille a te. Te le ridò. C'è così dolce. Un piccolo regalo per te. Oh, grazie! E un piccolo involtino alla salsiccia. Oh! Grazie davvero, dolce, davvero, grazie. Spero di vederti ancora. Grazie. Sì.